Benvenuti a Telefriuli, benvenuti al punto, benvenuto anche al primo cittadino della bellissima città di Corizia, il sindaco Rodolfo Zimerda. Grazie per la bellissima giornata a tutti gli interi spettatori e nuovamente grazie per la bellissima. Bene insomma, allora buona considerazione d'anno e naturalmente facciamo un passo indietro, facciamo un piccolo resumente dell'anno passato, come è successo, c'è stata qualche turbolenza istituzionale ma per il resto mi pare che il sindaco Ziberna... Non è il sindaco Ziberna, è la maggioranza, è la mia giunta, non voglio prendermi tutti i meriti. Vero è che siamo riusciti a fare un grandissimo balzo in avanti in quattro anni di governo, nonostante gli ultimi due fossero funestati dalla tragedia del Covid, siamo riusciti a portare il bilancio comunale da circa 100 milioni di euro a oltre 150 milioni, abbiamo avuto tantissimi investimenti, in quattro anni parliamo circa di 120 milioni di euro di investimenti, mai accaduto tanto, abbiamo privilegiato con 11 milioni di euro le scuole, il diritto sacrosanto di un genitore quando porta il figlio a scuola di riprenderlo assolutamente in colume e in salute, vale naturalmente anche per i dipendenti, per i docenti e non docenti, abbiamo investito tantissimo sull'impiantistica sportiva, sul verde, pochi sanno che Gorizia è settima e tredicesima in Italia, rapportate nei comuni capoluogo a numero di abitanti e superficie come verde, ogni cittadino ha circa 130 metri quadri di superficie verde, 200 sono gli spazi verdi, converrà che sono tantissime perciò le risorse che dobbiamo destinare e soprattutto quello che è importante, abbiamo già ricevuto dalla regione importantissimi investimenti che ci consentiranno di riqualificare l'ex mercato all'ingrosso di via Boccaccio che diventerà una struttura stupenda, una piazza coperta con due piani di posteggio sotto, siamo in direttura d'arriva nel senso che i lavori sono a buon punto, non più il prossimo anno ma nell'anno in corso, abituato a dire prossimo anno, nell'anno in corso verranno completati, mi riferisco alla Valletta del Corno, sarà un chilometro di prima era di Boscaglia, completamente inaccessibile. Ecco qui il sindaco ci teneva particolarmente perché mi ricordo. Ma sì, perché mi piace, anche perché Gorizia non avrà una cosa in più, ma una cosa completamente nuova, nel senso che Gorizia non avrà un parco in più, sarà il parco di Gorizia con sette accessi, con zona per i ragazzi, skate, una arena da 99 posti per i grandi eventi, ma anche picnic, zona fitness, zona ciclopedonale, ripeto, sette accessi perciò sarà, ecco perché noi la chiamiamo Central Park, ma per evocare quel luogo, naturalmente, e poi anche i soldi per i palabigotti che diventerà... Insomma la qualità della vita a Gorizia è molto buona, anche mi pare le classifiche nazionali che dimostra. Stiamo risalendo la gacchina anno dopo anno, anno dopo anno, peraltro per quanto riguarda la cultura, siamo ai vertici nazionali, dal cinema al teatro alla lettura e questo è un... sono dei prodromi eccezionali se pensiamo al nostro traguardo del 2025, capitale europea della cultura e io ho sbirciato, ammetto, ho sbirciato il foglio con le sue domande e vedo che tra le sue domande anche gli eventi, ma guarda che canaglia che sono, rubo il mestiere, le rubo anche il mestiere, le qui, ti quando ci sarà il programma, torneremo al tu. Beh, anche se mi viene difficile darti del lei dopo decenni di... Beh, ma diamoci del tu, tanto non è un... Ecco, allora, abbiamo detto turbolenza istituzionale, il rapporto con le opposizioni, manca qualcosa in maggioranza, no? Ma sì, le opposizioni è l'idea di tutto, certo affettuosamente mi arrabbio anche con loro perché il governo della città per me deve essere fatto da chi governa ma anche da chi sta in minoranza all'opposizione, l'opposizione è importante quanto chi governa, essenziale per incalzare, per proporre, per correggere, ahimè abbiamo visto però in quattro anni neppure una proposta dalla minoranza, ma vabbè, ci sta, quello che irrita di più non è tanto l'opposizione che il suo, consentitemi tra virgolette, lo fa, quanto da quelli che sono stati eletti nel centro-destra perché avevano questo sindaco, questo programma elettorale e hanno pensato bene in corso d'opera di abbandonare la nostra coalizione e di sostenere perciò l'opposizione, sarebbe come se entrati in campo 11 giocatori di calcio, dopo aver concordato tutto nel dettaglio, nello spogliatoio, all'improvviso due, tre o quattro decidessero di svolgere ruoli diversi o di andare in panchina o di stare a bordo con... Ma c'è stato qualche evento particolare che ha scatenato questo... Ma ci sono stati alcuni eventi, alcuni eventi molto legati alla politica regionale, mi riferisco perciò alla spaccatura che c'è stato all'interno di mio progetto FWG tra due leader regionali, perciò mi riferisco all'assessore Bini e al senatore Saro che ha dei punti di riferimento in questo momento in Consiglio Comunale a Gorizia e che prontamente hanno abbandonato perciò la coalizione di centro-destra per votare sempre contro ogni nostro atto. Perciò le dinamiche sono prevalentemente riconducibili a quello... Ma comunque insomma voi andate avanti e mi pare che anche lei ha tutta l'intenzione di ricandidarsi. Sì, ho già sciolto la riserva, tant'è vero che io lo scorso estate avevo detto se non passa la variazione di un bilancio io mi dimetto non il giorno dopo ma il giorno stesso perché avremmo potuto approfittare della finestra di ottobre per portare Gorizia al voto di evitare l'ingovernabilità, è un commissario per lungo tempo. Se dovesse capitare adesso... il prossimo bilancio nostro sarà a fine marzo perciò avremo un mese e mezzo prima del voto. Posso solo supporre che si voterà, sperando che si voti senza rinvi determinati derivati dal Covid si dovrebbe votare suppongo intorno alla metà di maggio per andare a un eventuale balottaggio due settimane dopo ai primi di giugno. Nel frattempo il bilancio è andato avanti, nel frattempo le tasse a Gorizia come sono sempre... Le tasse, ma sai che... Sembra le tasse basse che fa anche un po' di rima. No, ma sai che sono pochi, pochi sono nelle interviste coloro che mi fanno delle domande sulle tasse perché pochi sanno, ma pochi Goriziani sanno addirittura, che tra i comuni di Capoluogo io chiamo sempre impropriamente Capoluogo anche se sappiamo che le province ce le hanno ai noi, soppressa, pochi sanno che ci sono, noi siamo in assoluto in Italia tra i due o tre comuni che applicano una pressione fiscale più bassa, tant'è vero che l'IRPEF, l'addizionale IRPEF a Gorizia non esiste, Trieste mi pare che abbia l'otto per mille, Udio in Fosil 4, ma è giusto che sia così, per carità io non critico assolutamente gli altri colleghi sindaci, la mia scelta è stata quella di fare in modo che le risorse in questo momento rimangano nel portafoglio dei Goriziani e non nelle casse del Comune, guardi che noi rinunciando all'otto per mille di addizionare IRPEF rinunciamo a circa 4 milioni di euro di spesa corrente, 4 milioni Gorizia potrebbe fare tantissime cose da domani però per noi è ancora più duro, ancora più difficile governare, rilevare il governo della città 4 anni fa quando eravamo già in epoca di crisi importante, poi siamo impattati con la crisi determinata dal Covid, governare perciò in crisi e Covid e senza risorse mi creda, è una scelta che nessun amministratore fa però non avrei mai potuto prevederlo, però è difficilissimo. Eh beh vabbè insomma, ma comunque sia mi pare che le doti non mancano di convincimento. Ma guardi che la più grande cosa è la passione, passione, per candidare per fare il sindaco bisogna avere grande, tanta tanta passione, tanto amore per la propria città, io non riuscirei a fare il sindaco di un'altra città, per la mia città lo faccio come un genitore fa l'amministratore. Ma vedo che è innamorato proprio anche nell'enfasi. Allora si parlava prima della regione, no? Si parlava che non ci sono più le province, cosa pensa il sindaco di Urizia di queste famose aree vaste? Qualcuno dice facciamo Trieste, Udine, Friuli, ma in definitiva non sarà così. Ma non serve. Ma è un dibattito che è sopito ancora. E' da sempre che sappiamo che c'è una regione che si vorrebbe dividere tra area friulana e area giuliana. Tant'è vero che avevano proposto la soppressione dell'Isontino, il mantenimento del Friuli e della Venezia Giulia, Gorizia sarebbe stata divisa in due, Destrisonzo e Sinistrisonzo, Destrisonzo con Friuli e Sinistrisonzo con Trieste. Subito dopo Pordeone si è ribellato e ha detto no, non sopprimerete la provincia di Pordeone. Alla fine crediamo davvero che se su quattro province sopprimiamo la provincia Isontina si risolve non due, si risolve un unico problema assolutamente no. Cioè è una cosa gratuita. Allora, venendo tra l'altro, dimenticandoci che il ruolo importante svolto dalla minoranza linguistica slovena, dalla quale in buona parte è derivata anche la specialità dei Friuli Venezia Giulia. Perciò Gorizia ha un suo ruolo, un suo ruolo di cerniera tra la Venezia Giulia, Trieste e la bisiaccheria e i Friuli e non c'è motivo a nostro avviso perché venga soppressa. Altra cosa invece è che tra l'altro subiremo un grandissimo danno perché va da sé che chi fa questa proposta deve essere corrente, deve dire ai cittadini che io governo nazionale, se vengo a sapere che viene soppressa la provincia di Isontina, non due giorni dopo. Il giorno dopo tolgo Prefettura, Questura, Comando dei Carminieri. Si smantella la presenza dello Stato. La regione più unita è, una regione piccola come la nostra, meglio sta anche perché un indice vince. Oppure facciamo un unico provincia che coincide con la regione? Capirà che non ci sta. Allora parliamo un attimo dell'evento CLU, che comunque è molto atteso, ma comunque ogni tanto vediamo che le cronache ne parla, in questo capitale della cultura che mi pare che è un evento europeo di importanza... Ma io l'ho sempre sostenuto, questo qui sarà la più grande opportunità turistica per i Friuli Venezia Giulia dagli ultimi vent'anni, mi auguro che ci siano altre grandi opportunità nei prossimi eventi, ma senza dubbio per tutti i Friuli Venezia Giulia, non soltanto per Lisontino o per Gorizia. Perché ci saranno eventi da Portovecchio, di Trieste, fino a Spilimbergo, Gemona, Cividale, Aquileia, Tarvisio. Se pensa che a Matera ogni evento nell'ambito della prosa ci si doveva arrecare a Petruzieli in Puglia, a Bari e ci si impiegava un'ora e mezza, lei converrà che in un'ora e mezza da Gorizia noi abbiamo traguardato Padova, siamo arrivati a Lubiana e tornati quasi indietro. Perciò è un'opportunità per tutti, lo hanno capito gli amici della Giunta regionale, in particolar modo l'Assessore Gibelli, il Presidente della Regione Federica e già da quest'anno nei cosiddetti triennali, cioè nelle iniziative principali, nei più grandi eventi che hanno luogo nel Friuli Venezia Giulia, l'Assessore Gibelli ha introdotto una cosiddetta premialità e perciò verranno premiati quegli eventi che si svolgeranno anche a Gorizia o a Nuova Gorizia. Perciò Gorizia sarà una vetrina del meglio della cultura regionale andando verso 2025, questa grande festa europea nel Friuli Venezia Giulia. Bene, allora con questo bellissimo accorato appello al Sindaco Gorizia perché la Regione tutta si riversi a Gorizia già da adesso, insomma, perché sarà un punto di riferimento europeo, io lo ringrazio, io lo prendo come testimonial nostro, anche perché c'è la promessa, no? Assolutamente, assolutamente. Benissimo, allora ringrazio ancora il Sindaco di Gorizia, naturalmente tanti auguri a tutti i goriziani, naturalmente ci rivedremo ancora qui, al punto. Va bene, alla prossima.